Ben tornato Gutier, ben tornata. Andiamo ora a descriverti una parte particolarmente corposa del sistema operativo, strumenti di amministrazione. Iniziamo questa lunga sezione riferita appunto al pannello di controllo, servirebbe in realtà un corso ad hoc per descrivere tutte le funzionalità integrate all'interno di questa sezione e soprattutto anche conoscenze abbastanza imponenti fin anche a comandi di riga e per poter trattare in maniera esauriente, come detto, servirebbe un corso ad hoc. Infatti questa è una sezione dedicata in particolar modo agli amministratori di sistema e autenti esperti. Ma noi pian piano facciamo il nostro compito. Per questo motivo però ti farò prendere coscienza soltanto alcune sezioni di quelle mostrate in elenco. A seconda della versione del sistema operativo avrà in visione sezioni diverse. A cosa serve questa sezione? A configurare le impostazioni amministrative del computer. Utile per variare le impostazioni eseguire diagnosi, risolvere dei problemi, gestire l'hardware installato, verificare le prestazioni o gestire i servizi del sistema operativo, pianificare le attività, gestione la sicurezza e molto molto altro ancora. Come potrai accedere alla sezione? Naturalmente cliccando sul pulsante strumenti di amministrazione una volta raggiunto il pannello di controllo. Nella schermata troverai molte sezioni come detto e dato che alcune sono particolarmente corpose e che necessitano competenze ben più spinte direi manteniamoci leggeri e quindi darò soltanto cenni ad alcune delle informazioni presenti come configurazione di sistema, diagnosi, memoria Windows, gestione computer, gestione stampa, performance monitor, servizi, utilità di pianificazione, visualizzatore eventi. Questa come puoi ben vedere da questo screenshot è la lunga e corposa lista delle sezioni presenti all'interno di strumenti di amministrazione. Partiamo dalla prima configurazione di sistema. Ti consente di identificare i problemi che potrebbero impedire l'avvio di Windows e accedendo a questa sezione potrai avviare Windows con alcuni programmi e alcuni servizi disattivati oppure riattivarli uno per volta. Avviando la sezione troverai 5 schede generale, opzioni di avvio, servizi, avvio e strumenti. Qui riportati in questo screenshot. Nella prima scheda trovi 3 possibili scelte. Avvio normale che caricherà tutti i servizi e i driver di dispositivi. Oppure se vuoi effettuare un avvio diagnostico perché magari hai qualche problema verranno avviati soltanto alcuni servizi di base e di driver. Oppure ultima sezione avviare il computer con un avvio selettivo. Quindi verranno avviati alcuni servizi di base e driver come il precedente ma in più alcuni programmi in esecuzione automatica all'avvio del sistema operativo. Questa è l'opzione che io normalmente utilizzo. Dalla seconda scheda visualizzi la lista dei sistemi operativi che eventualmente avrai installato sul tuo PC. se ce n'è uno naturalmente troverai soltanto un nominativo. E in più le sue opzioni di configurazioni e impostazioni avanzate. Tra le opzioni più rilevanti potrai selezionare l'avvio in modalità provvisoria eseguendo questo segno di spunta solo con i servizi di sistema critici. Quindi con una grossa alleggerita ai servizi avviati durante il normale utilizzo. In fase di diagnosi o soluzioni di problemi questa potrebbe essere un'opportunità. Altra cosa che può tornarti utile è selezionare il segno di spunta su funzionalità video di base in modo da aprire l'interfaccia grafica di Windows in modalità VGA minima. Ossia in questo modo verranno caricati i driver VGA standard e non quelli dedicati dell'eventuale scheda grafica che avrai installato. Trovi anche un numero di secondi sotto la sigla Time Out. In pratica rappresenta il numero di secondi di attesa nella schermata di accensione del computer in modo da darti il tempo necessario a poter selezionare l'uno o l'altro sistema operativo da avviare prima che il sistema stesso avvii in maniera automatica quello che avrai selezionato come predefinito. Da questo pulsante opzioni avanzate puoi selezionare opzioni che riguardano il processore. In questa sezione cliccando su questo segno di spunta si abiliterà questo menu a tendina e se tu hai installato un processore multicore, dual core, quad core eccetera potrai selezionare il numero di processori con cui il sistema operativo si avvia. Nel mio caso ho un dual core e ho selezionato numero di processori 2. Nella terza scheda hai elencato la lista completa dei servizi che vengono attivati all'avvio del sistema operativo e il loro stato se in esecuzione oppure arrestato. Naturalmente potrai deselezionare o selezionare quelli che vuoi attivare o disattivare. In questo modo potrai in fase diagnostica arrestare quei potenziali servizi che potrebbero dare dei problemi oppure migliorare le prestazioni del sistema operativo generale se un determinato servizio credi che non ti serva. Tramite questo segno di spunta per una più facile identificazione può tornarti utile impostarlo in modo da visionare soltanto i servizi di casa Microsoft in modo da individuare più facilmente i servizi esterni che potrebbero potenzialmente creare dei problemi alla stabilità del sistema operativo. Disattivare servizi importanti però potrebbe rendere instabile il sistema operativo stesso quindi fai attenzione. Al termine cliccando su ok potrai avere la necessità di riavviare il pc per far acquisire queste impostazioni. La quarta sezione chiamata avvio evidenzia i programmi che vengono attivati automaticamente in fase di avvio del sistema operativo. Anche qui potrai selezionare o deselezionare i programmi che normalmente non utilizzi e quindi è totalmente superfluo farli avviare e succhiare risorse in background al computer qualora non li utilizzassi costantemente. Questo farà sì che migliorerai le prestazioni generali del sistema. Qui hai anche il percorso e la linea di comando verso l'eseguibile. La casella strumenti infine presenta l'elenco di programmi di diagnostica ed altri strumenti avanzati che potrai eseguire come cliccando semplicemente sull'uno o l'altro strumento e cliccando sul pulsante esegui. Qui hai la linea di comando per raggiungere l'eseguibile che si andrà ad avviare nell'uno o l'altro strumento. Una sezione utile in fase di diagnosi. Altra sezione del pannello di controllo è Diagnosi memoria Windows. Ti consentirà di individuare eventuali problemi alla memoria del tuo pc. Clicca sopra questa sezione due volte per poter presentarti questo screenshot e decidere quando effettuare una diagnosi ossia riavviare immediatamente e ricercare un'eventuale diagnosi di malfunzionamento nella memoria oppure individuare questi problemi al prossimo riavvio del computer. Altra sezione gestione computer. Questa è molto importante in quanto ti consentirà di gestire i dischi rigidi ed accedere a utilità e gestioni del computer. Questo è uno screenshot di come si presenta la lista delle tue periferiche di memorizzazione. Come vedi anch'essa è abbastanza corposa ma alcune sezioni le vedremo a breve ed in questa sezione individua soltanto la sezione archiviazione da cui nasce gestione disco. Cliccando due volte su questo ultimo pulsante accedi alla sezione grafica che hai appena visto per una miglior gestione dei dispositivi di memorizzazione presenti sul tuo pc. Da qui cliccando col tasto destro su una o l'altra partizione si crea un menu. Da questa lista potrai esplorare i dispositivi come se utilizzassi esplora risorse oppure eliminare una partizione, aumentare o ridurre il volume della dimensione delle stesse. Altra sezione gestione stampa. Ti consentirà di gestire le stampanti locali e i server di stampa remoti. Tra le varie sezioni individua quella relativa alle stampanti collegate al pc. Seguendo questo percorso gestione stampa filtri personalizzati tutte le stampanti. In pratica questo pulsante che ti evidenzia la vista delle stampanti collegate al tuo computer. Da qui potrai eseguire alcune variazioni e visionare e gestire le impostazioni delle stampanti. Come vedi si apre una sezione abbastanza corposa in base alla stampante che avrai scelto. Cliccando due volte sulla stampante infatti potrai visionare e variare molte opzioni da cui preferenze di stampa, stampare la pagina di prova, condividere la stampante, visionare, aggiungere o eliminare la porta che il sistema operativo utilizza per pilotare la stampante, limitare o meno il tempo di accesso alla stessa, scegliere un nuovo driver, quindi installare un nuovo driver, gestire i colori per la stampa, decidere le autorizzazioni per la stampante stessa e molte altre funzioni. Qui rappresentata un'altra scheda all'interno delle opzioni della stampante che ho selezionato. Come puoi vedere è abbastanza corposa la scelta delle opzioni. Ti invito se vorrai ottimizzare la stampante in termini di funzionalità individua e esegui e testa alcune di queste opzioni senza problema e in sicurezza. Come puoi vedere hai un'ampia possibilità per raffinare la tua stampante e migliorarne l'impiego. Bene Google, andiamo a vedere l'inizio della parte pratica della sezione strumenti di amministrazione del pannello di controllo. Clicca sul pulsante per visionare questa sezione. Come vedi c'è una lunga lista di opzioni. Andiamo a cliccare sulla prima sezione, configurazione di sistema, si aprirà questa sezione che ti permetterà di scegliere il tipo di avvio del sistema operativo. In condizioni normale troverai questa opzione. Qualora tu ravvedessi qualche problema potrai cliccare su avvio diagnostico e semplicemente applicare oppure cliccare su ok e riavviare oppure scegliere con un avvio selettivo cosa selezionare in fase di avvio, ossia caricare i servizi di sistema e caricare gli elementi di avvio. Questo per alleggerire anche l'avvio dello stesso. Nelle opzioni di avvio troverai la lista dei sistemi operativi che saranno installati sul tuo computer. In questo caso in questo computer ho installato Windows 7 e Windows 8 e Windows 8 è il predefinito. Qualora volessi avviare Windows 7 come predefinito sarà sufficiente cliccare su questo pulsante. In fase di avvio avrò un tempo di 5 secondi impostato da me, normalmente troverai 30 secondi, per avviare questa scelta. Qualora in fase di avvio non eseguissi la scelta, dopo 5 secondi il sistema in automatico che si avvierà sarà Windows 8 in quanto predefinito. Potrai in questa sezione avviare o meglio riavviare il computer in modalità preovvisoria qualora avessi dei problemi anche in fase minima per poter eseguire una diagnosi in maniera degradata dal punto di vista delle funzionalità del sistema operativo in quanto alcuni servizi non saranno avviati. Oppure come dicevo nella descrizione potrai scegliere di avviare il sistema operativo con una funzionalità video di base caricando soltanto i driver VGA standard e non quelli della scheda grafica installata. Dopo aver eseguito questa scelta sarà sufficiente cliccare su ok e riavviare attualmente. Poi c'è il pulsante opzioni avanzate che per quel che riguarda il numero di processori se non hai eseguito alcuna impostazione troverai il segno di spunta deselezionato. Se eventualmente hai un multicore come processore potrai da questa tendina selezionare il massimo di processori che avrai presente nel tuo multicore in modo da avviare il sistema operativo con il numero massimo di processori. Altre sezioni presenti nella sezione configurazione di sistema è la scheda servizi. Qui hai elencato tutta la lista dei servizi Microsoft e non Microsoft che sono avviati normalmente e che anche se avviati possono essere arrestati o in esecuzione. Qualora tu avessi qualche problema oppure non avessi la necessità col tempo imparerai di qualche servizio potrai semplicemente disabilitarlo per facilitare la lettura cliccando su nascondi tutti i servizi Microsoft naturalmente avrai in visione soltanto i servizi di terze parti. Come puoi vedere qui ho soltanto un servizio in quanto questa versione del sistema operativo la utilizzo soltanto per questo percorso didattico. Un discorso abbastanza simile è quello relativo all'avvio. Come puoi vedere in questo caso c'è un solo programma con questa linea di comando e con questo percorso per andare ad individuare eventualmente dove è posizionato l'eseguibile che si avvierà in fase di avvio del sistema operativo che è il mio virtualizzatore. Ultima sezione della categoria configurazione di sistema è strumenti. Qui tu in fase diagnostica puoi scegliere uno o più programmi e qui è riportata anche la versione dell'eseguibile quindi la linea di comando dove andarla ad individuare per avere la diagnosi eventualmente oppure mandar semplicemente in esecuzione l'uno o l'altro programma sarà sufficiente selezionarlo e cliccando sul pulsante esegui dopo qualche secondo si avvierà naturalmente il programma che avrai selezionato. Andiamo avanti nella descrizione dei comandi di strumenti di amministrazione. Il pulsante diagnostica di memoria ti permette semplicemente di eseguire una diagnosi della memoria RAM. Cliccando sul pulsante riavvia ora si riavvierà il computer eseguirà una diagnosi della RAM oppure deciderai cliccando su questo pulsante di rimandare al successivo riavvio il controllo della RAM. Passiamo ora a gestione computer. Cliccandoci sopra si avvierà dopo qualche secondo una sezione abbastanza corposa, alcune le descriveremo più avanti ma indirizza la tua attenzione su questo pulsante gestione disco. Dopo qualche secondo avrai la lista delle periferiche e delle partizioni relative ai supporti di memorizzazione quindi disco rigido presente sul tuo computer. All'interno di questa sezione potrai selezionare questa interfaccia grafica oppure questa e cliccando con il pulsante destro si aprirà un menu che ti permetterà ad esempio di esplorare la partizione come se tu fossi in esplora risorse oppure eseguire alcune operazioni di riduzione della partizione per far spazio eventualmente ne volessi crearne una oppure eliminare o formatare la partizione stessa. Per queste specifiche azioni ti rimando a dei video tutorial che sto preparando e in seguito visionerai sul canale YouTube. Naturalmente per il momento fai attenzione se non sei ben formato, se non sei ben formata ad interagire con queste sezioni soprattutto per quelle riservate al sistema o dove ha installato il sistema operativo in quanto un'azione impropria come l'eliminazione del volume ad esempio di Windows 8 ti inibirà naturalmente il riavvio con uno dei sistemi operativi che avrai installato. Chiudiamo questa sezione e andiamo avanti nella descrizione. Ultima per questa lezione gestione stampa. In questo caso troverai seguendo il percorso tutte le stampanti da gestione stampa le stampanti che sono installate all'interno del sistema operativo. Come vedi qui non trovi granché in quanto non ho installato alcuna stampante dato che come sottolino di nuovo questa versione del sistema operativo la utilizzo soltanto per scopi didattici. Comunque in automatico il sistema operativo ha installato un ipotetico fax ed una stampante e comunque il senso è che cliccando con il pulsante destro sull'una all'altra potrai andare ad individuare le proprietà di questa stampante ed eventualmente impostarne le preferenze. Ora non ho granché possibilità di farti vedere l'operatività di questa sezione ma comunque in generale potrai impostare le preferenze della stampa, cliccare sul pulsante stampa pagina di prova per visionare che la stessa funzioni correttamente oppure testare altre opzioni sempre mi raccomando facendo uso del virtualizzatore qualora tu stessi testando ossia non fossi ancora ben cosciente di ciò che esegui ogni minima operazione e quindi ti rimando ad una esperienza soggettiva per acquisire in miglior modo la piena funzionalità di questa sezione. Ci leggiamo nella prossima lezione per avviarci nelle ultime sezioni del pannello di controllo. Come sempre un forte saluto, ciao a presto da Gallo e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!